Andrà in onda questa sera alle 21 su Telequattro l'ultimo dei concerti del ciclo Giovani talenti che ha visto la stretta collaborazione fra il Teatro Verdi e il Conservatorio Tartini sotto l'egida del Comune. Il talento che ha avuto modo di esibirsi assieme all'orchestra del teatro diretta da Christopher Franklin è davvero giovanissimo. Luca Bello, fisarmonicista poco più che quattordicenne già campione del mondo. Il programma obbligatoriamente rispecchia tale specializzazione e propone un brano di Arturo Danzon, un ouverture di Alberto Ginastera e un concerto per fisarmonica e orchestra di Vaclav Trojan. Ma soprattutto un brano che da subito è stato un classico, Oblivion di Astor Piazzolla. Così il Verdi celebra i cent'anni dalla nascita del bandoneonista argentino. Completa il tutto il Canticle of Freedom di Aaron Copland. Il concerto verrà replicato domani alle 23.30.